Grazie, grazie. I nominativi italiani sono stati oggetto di una denuncia del garante per la privacy italiano. Bene che a 70 anni dalla Declarazione Universale dei Diritti Umani l'Europa oggi sia sulla frontiera dei diritti umani digitali, con un regolamento che ci fa onore. Ma serve coerenza. Primo, serve il regolamento per la e-privacy. Secondo, credo che ci sia bisogno, sotto tutti i profili, di avere un coraggio maggiore nel definire le responsabilità delle social platforms, anche per quanto riguarda i contenuti di odio, di stigazione, di stigazione talvolta al suicidio, penso al bullismo, e anche di tutta quella assoluta abuso di potere e di posizioni dominanti che si ha anche nei confronti di altri ambiti. E terzo, una maggiore collaborazione fra le autorità europee da facilitare per la Commissione, quelle che proteggono i dati, i consumatori e la concorrenza. Vanno visti in una visione molto più integrata. Grazie. Onorevole Boni, un minuto e trenta secondi. Lo scandalo di Facebook e di Cambridge Analytica può essere una lezione di successo, di perdita di buon nome oppure un'opportunità. Che cosa intendo dire? No, mai, prima.